direi che ok ce l'abbiamo fatta è stato più facile di previsto non so se essere felice di questa cosa o aspettarmi la patilata sono tagliato recentemente scusami questi alberi fanno manutenzione quindi eccola in teoria questo è il famoso oratorio questo è il corpo dell'abitazione e quella la struttura che però è mezza crollata ma io inizierei proprio da laggiù si cosa ti dico io sempre guarda lì a destra bambù dove c'è il bambù c'è casa si c'è qualcosa di bello è andato giù tutto si può entrare assolutamente no c'è una stanzotta che finisce lì praticamente erano delle stalle però vedi sì con gli abbeveratori sì è vero la patchia bici la graziella la utilizzano secondo te non credo completamente crollato 2000 calendario 2000 tondo 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 mi pare sia stata evitata fino al 98 97 98 che bel cancello veramente bello questa è la facciata principale cioè quella è la facciata principale di qua o di dentro non saprei con il suo parco annesso ma questa è la struttura invece nella vegetazione davanti non so che cosa sia sempre un po che ci diamo l'occhiata beh siamo qui ma che animale ci stava qui dentro ma ci stava il giaguaro ma piccola ma piccola e poi lì cosa tenevo forse sì volevo guardare qui polli senti fate immagini se apriamo una porta e ci esce fuori tutta una polleria un cane e come lo rimettiamo dentro qui si ci passa dici perché vado io no no facciamo il contrario c'è ancora oh mio dio è pericolosissimo ma non puoi non venire si adesso vieni tieni tu ok come al solito guarda cosa c'è la guarda io non ci credo attenzione soffitti ok incrociavo le dita butta l'occhio su ogni tanto magari non passiamo proprio sotto qui ma non ci credo guarda lì cosa c'è è una fiat e non stare proprio lì no è una parte più solida e sta facendo la pancia proprio lì no ma gli è cascato strada e sopra sopra mio dio com'è bella ma che macchina è questa cosa sarà una fiat questa è così ad occhio non ha neanche tirato via ma che meraviglia lo stai ma se lo sono portati via ma ti invaglia se si apri il baule adesso provo no ma non fare tanto movimento secondo me ma provo vedere se c'è ancora il motore ora davanti il motore ah che bella domanda si apre il baule con la gomma di scorta ma che delitto a lasciarla qua guarda è davanti da sola poverina ma come bella vediamo se si vedrà io penso che sia una fiat ma non sono sicuro ma anche la targa gli hanno portato via no ma lì c'è troppi calcinacce però probabilmente c'è il gancio suo che la tiene ferma si capisce come è entrato questo trave no che bella che bella è quello esattamente da sopra è venuto giù cioè quanti anni avrà questa macchina sa degli anni sessanta ma è questo carretto qua che non abbiamo neanche visto ma anche questo è bello eh sì bello si sono fermati sulla macchina anche questo qua è un bel carretto trainato dai buoi chissà fra un altro questa qua è la portiera che si apre il contrario ah che bello sì quella giusta per prendere la bora se riconoscete il modello della macchina scrivetecelo nei commenti secondo me potrebbe essere una fiat non saprei quale non saprei neanche di che anno di che periodo dei sessanta settanta non lo so questa si apre sì è aperta oh oh dammi già ah ma che belle che è una tinozza ma sai cos'è quella roba lì per farsi il bagno no ma sembra eh dai come sei soffitto eh che bella che domande ma dice che per lavarsi ma con questo ma guarda o lavava gli animali anche ma dai gli animali ma tipo i porchi non li lavano ma figurati ma quando mai che mi importava di lavare gli animali non so se andare ma io penso di sì che si possa guarda qua guarda che raggiuntura sì secondo me regge ancora però per me questa era proprio una tinozza eh bella bellissima e questa è la gomma di scorta della macchina è il più grande della macchina anche questo quelle sono tutte attrezzature roba agricole anche un bel bel mancone qua e altre botte tinozza in fondo sì ho finalmente trovato la scopa della strega che ti dicevo ti ricordi nella casa sì la casa blu dai prende quella quella è proprio fatta da rami questa è la classica scopa della strega cioè non è neanche che sono dei rami imprecciati è così vuoi prenderla vuoi fare la prova no 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 tengo la mia quindi questa scala andava su eh sì questa scala saliva su forse si accede da ma la richiudo si era aperto ma richiù mi sembra più bello chiudere la ramiucchettata si proviamo anche questa eh sì quella sporticina giù lì la vedi eh questa cosa qua vedi che figo tiravano su e giù ma per far uscire gli animali i gatti si qualcosa del genere c'è quella mia forza brutta come di solito è un po' incastrata guarda che maniglia oh ah sempre i soliti bastoni per appendere i salami qua li vedi si comunque zona deposito anche questa qua stai attento tamigiane accidenti ah ecco vedi questa la proticina è quella della scala che vai su oddio quindi si aprirà guardiamo dopo guardiamo fino a qua allora qua dobbiamo stare attenti sì perché il soffitto è un po' non c'è sai cosa le dorei in fondo adesso non vorrei dire puttanate è una mungitrice sì sì secondo me sì l'ho vista dai cioè una mungitrice per le mucche davvero guardala eh beh ciò sì avevano le mucche aspiravano le loro tettine facevano il latte le mettevano i serbatoi le raccoglievano il latte sì e questa qua è una una pressa per come si chiama la pressa per l'uva vedi sì un torchio un torchio sì ultimamente il torchio comunque la mungitrice l'ho mai visto io vediamo se si apre questa questa cosa è questa qua la cesta per le uova è improbabile sì che bello questo qua è il cestino per le uova che bello è questo cosino sì può essere allora proviamo sì sì ma non è che andremo sopra anche se si apre ecco si apre infatti è chiusa è proprio la tentazione porca miseria vediamo il soffitto come è che ci sarà nulla ma il soffitto è buono eh eh sì dai posso giusto buttare l'occhio tu dimmi se vedi i gradini ma io lo sto anche attendo che non ci siano nidi di vespera perché questo freddo no in realtà non fanno una piega eh sì ma se ne sento duri ma comunque è una collezione di damigiane sì collezione di damigiane poi va ancora più su però non si può passare sì da fuori dalla strada si vedeva che il tetto eh sì è di velto ormai eh gabbia di questa è una gabbia per degli uccelli dei volatili immagino io per i pulcini sono tante gabbie vieni a vedere fin qua probabilmente per i pulcini anche qua per i pulcini e polli chissà che colomba chissà che animali piccioni proprio quella scendiamo che ci ha già regalato cose inattese ma dai sì queste sono in pietra sì chissà se c'è la roba qui dentro nel frigo? sì oddio non oserei aprirla tu no io sì dai guarda che paga bella quella questa è per il mangime quelle cose lì guarda se si riesce a sollevare ma con le mani nude dai si è pure i guanti è vuotissimo per fortuna è vuoto ok non sto neanche guardando dove vado tu sei entrato gioco per bambini se troviamo ovunque i trattorini per bambini c'è? anche qua è una zona attenta a non toccare quel travoi là quale? quello dritto davanti a te lo vedi? questo e questo? sì perché se lo sbilanci un tavolino vintage queste sedie sono vintage eh direi di sì saranno comodissime hai visto? e qua nelle stare estive che si sedevano su questo loro tavolino vedi? bevevano un acqua alla menta l'amaro forse ecco il loro uccellino qua ah già fantastico sarà lo scheletro dell'uccellino no non ho detto proviamo ad andare di qua adesso che stiamo qua però adesso c'è qualche ingresso laterale tipo anche quella a porta là potrebbe anche essere aperta c'è scritto pericolo almeno adesso non c'è più il tento pericolante sopra la testa chiusa prova è aperta è chiusa sai cosa ti dico proviamo a vedere dall'altra parte che strano però anche se stai guarda la finestra l'hanno l'hanno bloccata da poco secondo me facciamo il giro sì vediamo se c'è sarebbe un peccato no arrivate fino a qui eh direi che sì mi dispiacerebbe però c'è un altro ingresso questa è chiusa chiara ok per me è chiusa dall'interno no allora no Milano si va niente riproviamo auto davanti ciao l'ho an a l'ho a l'ho a a l'ho a volevamo aprire questo questo video all'interno della casa fatto sta che non siamo mai riusciti ad entrare in questa casa avevamo idea che fosse possibile esplorarla invece abbiamo trovato tutto chiuso sbarrato ovviamente di recente hanno anche messo dei lucchetti nuovi ovviamente noi non forziamo niente siamo riusciti a fare qualche ripresa qualche bella scoperta dell'esterno tra cui quella vecchissima macchina ma anche altre cose dentro la zona più agricola forse questa casa qua aveva dentro ancora un sacco di arredamenti c'era tutto di cose vissute perché è stata abbandonata alla morte dei proprietari sì una morte improvvisa quindi hanno dovuto lasciare hanno lasciato tutto quello che avevano ma noi non ci scoraggiamo andiamo subito in cerca di un'altra cosa un altro giro un'altra corsa a mostrarci e mostrarvi a presto ciao